parte del gruppo di contrasto e uno dei primi finanziatori dell'ISIS. Allora, diciamoci le cose come stanno. Io credo che l'inserimento di Serrai porterà con una velocità lampo a firmare soltanto una carta in cui si chiederà l'appoggio alla comunità internazionale e l'esercito è già pronto per andare in Libia e dividersi il territorio in tre parti, una alla Francia, una all'Inghilterra e una all'Italia, concludendo così quel percorso iniziato nel 2011 che fa comodo tanto alle multinazionali del petrolio e alla Francia, ma certamente non al popolo italiano. Per qualsiasi morto in guerra italiano la responsabilità sarà sicuramente vostra. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2212, dei deputati Scotto ed altri, concernente chiarimenti in merito ai tempi di adozione del decreto di rifinanziamento delle missioni internazionali per l'anno 2016, nonché in merito all'esistenza di un piano per l'intervento militare italiano in Libia. Il deputato Pallazzotto ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui ecco firma Dario per un minuto. Prego, onorevole. Grazie, signora Presidente. Signor Ministro, il decreto missioni, quello che autorizza le missioni internazionali del nostro Paese, è scaduto da 118 giorni, il che ci fa pensare che quando tornerà in Aula un decreto missioni sarà di fatto per ratificare delle scelte che sono già state prese e non tanto per decidere, come è legittimo per questo Parlamento, l'opportunità di proseguire quelle missioni o di stabilirne delle altre. I scenari internazionali sono in continua evoluzione e richiedono una visione strategica che oggi pare non appartenga alla politica estera e di difesa di questo Paese. Ne sono una dimostrazione e il balletto delle cifre sui continui possibili interventi militari. La Ministra Pinotti che ne annunciava 5.000 pronti a partire per la Libia, sono diventati 900, negli ultimi giorni 250 a protezione delle sedi diplomatiche. Oggi lo è anche, mi perdone Presidente, ho concluso, le politiche messe in campo da Paesi nostri alleati, l'assenza di visioni strategiche anche dell'Unione Europea,